Domani alle 9.30 presso l'auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano-Faiano, Etruschi di Frontiera accoglierà un workshop il Barattolo d'emergenza Metti al sicuro la tua salute. L'iniziativa porta alla firma delle associazioni Lions Club Salerno-Rechi e Lions Club Salerno 2000 del comune rappresentato da Giuseppe Lanzara. Prevede la partecipazione di esperti chiamati ad illustrare le caratteristiche e le modalità d'uso di questo contenitore salvavita, destinato principalmente ad anziani e disabili, ma essendibili a tutti i cittadini. Il Barattolo d'emergenza è infatti un oggetto che accoglie al proprio interno una piccola scheda informativa contenente le comunicazioni più significative sulle condizioni mediche del paziente. Il Barattolo d'emergenza è un'iniziativa a cui tiene molto l'assessore della politica e sociosanitari Roberto Michele Di Muro con il sindaco Giuseppe Lanzara.